Senatore buongiorno, benvenuto nel gruppo Mancini, è un onore averla tra il mondo Mancini. Cosa ne pensa della serata? Interessante, noi cerchiamo di dare un contributo morale a queste inizioni che sono fondamentali al centro del paese, in piazzetta, che praticamente deve ritornare a essere, qui è nata l'isola di schiena, a piazza dei Pagni e questo ritengo che sia poveroso nei confronti di chi schitano con il mondo Mancini si dà da fare per portare avanti l'attività del nostro paese. Senatore, come mai hai scelto il mondo Mancini? Perché è uno che si dà da fare, perché è uno che vive sul territorio, è uno che ama e ha passione per questa sua attività, quindi un mecenato del genere deve essere assolutamente aiutato nel sviluppo dell'attività e di tutti coloro che con passione e con calore svolgono queste attività importanti per tutti. Cosa augura al mondo Mancini? Io sono convinto che oggi bisogna ritornare al passato, perché è il nostro specchietto retrovisore e ci permette di guardare il futuro con maggiore tranquillità. Proprio in questo momento di crisi c'è bisogno di rivedere cose che abbiamo fatto e che abbiamo sbagliato e migliorarle, quindi è anche un momento di riflessione e di attenzione. Da un punto di vista economico come imprenditore ritengo che avendo raggiunto il punto più basso non si può che crescere, di conseguenza invito tutti a investire nel futuro, nei giovani, soprattutto anche economicamente, perché un momento più basso di questo difficilmente potrà sussistere. Senatore, un'altra domanda. Secondo lei la cultura, in un mondo in cui oggi sembra tutto diventare difficile, i ragazzi di oggi sappiamo che sono pochi coloro che si interessano alla cultura, ci sono molti ragazzi che sabato sera escono, si vanno a ubriacare. Lei cosa augura ai ragazzi di oggi? Io avendo 5 figli devo dire che bisogna essere prima di tutto dei buoni genitori, perché i figli da soli non nascono, quindi devono essere condotti e la cosa più difficile che oggi c'è è proprio di quello di fare il padre e la madre, quindi penso prima che i giovani che i genitori diano un indirizzo concreto ai loro figli, perché i figli non vengono fuori da soli. I figli sono delle frecce che noi lanciamo, quindi nel momento che le lanciamo dobbiamo vedere di non sbagliare le direzioni e quindi molti degli errori che fanno i figli sono responsabilità di cattivi genitori più che di cattivi figli. Quindi la cultura può essere una forma di educazione? Assolutamente, la cultura è un indirizzo fondamentale, quindi incominciando dalla scuola, per cui i genitori nel momento che affinano i loro figli alla scuola noi dobbiamo pretendere di avere una scuola che funziona. Talvolta siamo invece poco attenti a questo. Io ricordo che un professore qualche volta mi trattava male, io andavo da mia madre e gli dicevo guarda il professore mi ha trattato così, buscavo ancora di più. Oggi invece è esattamente il contrario. quando un figlio viene a casa e talvolta qualche genitore va a lamentarsi dal professore, questa cosa è sbagliata. La ringraziamo senatore, grazie per essere intervenuta.